Nel nostro approccio sappiamo che il coaching deve essere protocollato, protocollabile, trasferibile. Nei nostri protocolli di coaching strategico esistono quattro fasi che devono essere seguite. L'ultima è quella che definiamo chiusura di percorso. Ora, in tanti approcci questa ultima pennellata che serve a chiudere il cerchio e che adesso proviamo un pochino non ad approfondire ma ad accennare, ad introdurre, così a trattare come tema di confronto quindi mi farebbe piacere anche conoscere la tua è un pochino sottovalutata, diciamo così. Comunque non riceve tutte le attenzioni che invece dovrebbe. Ora, la chiusura di percorso è un pochino il momento in cui è nostra responsabilità come coach guidare il coach a assumersi la responsabilità del cambiamento avvenuto o non avvenuto ancora, non avvenuto come ci si aspettava e poi anche a fare in modo che ci sia una chiusura del cerchio quindi una vera e propria capitalizzazione degli apprendimenti. Il coaching è, a tutti gli effetti, un percorso che consente o dovrebbe consentire al coachee di sviluppare degli apprendimenti a allenare delle competenze ed è un vero peccato arrivare alla fine di un percorso avendo ottenuto dei risultati ma non avendo fatto tesoro di tutte le scoperte che inevitabilmente in questo percorso saranno accadute. Nel nostro approccio, in particolar modo, l'approccio strategico non sempre accade che il cambiamento passi attraverso la consapevolezza anzi, nella maggior parte delle volte il cambiamento prima avviene e quindi viene facilitato ci sono ovviamente una serie di meccanismi che facilitano il coachee a ottenere il cambiamento a sperimentarlo, a viverlo, a renderlo concreto e in alcuni casi potrebbe succedere anche che addirittura il coachee non sia consapevole ancora di come sia avvenuto il cambiamento. Ecco, l'ultima fase, quella di chiusura del percorso serve proprio a lavorare sulla consapevolezza. Altri approcci lavorano all'inverso cioè puntano a fare in modo che il coachee sviluppi consapevolezza in merito a se stesso, in merito alle dinamiche che sta vivendo in merito al problema, all'obiettivo, eccetera, eccetera e grazie a questa consapevolezza viva il cambiamento. Nella maggior parte dei casi, l'abbiamo anche visto in altri video questo non funziona o non funziona come ci aspetteremo perché funziona soltanto quando il cambiamento che vogliamo vedere avvenire o i cambiamenti che ci aspettiamo che il coachee si aspetta sono cambiamenti che seguono una logica lineare di causa-effetto secondo la quale se so come funziona allora riesco a cambiarlo. Ecco, nella maggior parte dei casi però noi ci cimentiamo con cambiamenti di altro tipo che seguono logiche non ordinari. Quindi inevitabilmente noi dobbiamo portare prima dal nostro punto di vista il coachee a vivere, sperimentare il cambiamento a toccarlo con mano a consolidarlo nel tempo e solo dopo fare in modo che arrivi la consapevolezza anzi in alcuni casi la consapevolezza impedisce il cambiamento ma ti faccio un esempio noi abbiamo uno stratagemma che fa parte della nostra metodologia e che ci è tanto caro che è anche un po' insidioso da applicare ci vuole un po' di tempo per essere precisi, abili, chirurgici ad applicarlo che è il solcare il mare all'insaputa del cielo. Ora, quell'insaputa del cielo vuol dire che non possiamo fare in modo che il coachee sia già consapevole in partenza di come vorremmo fargli solcare il mare altrimenti non riuscirà a farlo non riuscirà a partire proprio in alcuni casi. Quindi la fase di chiusura la quarta fase, la fase 4 del nostro protocollo è fondamentale. è un po' come quando si finisce un viaggio si torna a casa si riaprono le valigie si mette in ordine quanto magari acquistato in vacanza si fa un pochino pulizia si lavano i panni sporchi si riguardano anche le foto del viaggio ecco, è proprio questa la fase di chiusura che non può essere sottovalutata non deve essere sottovalutata e va governata attraverso una serie di strumenti una serie di tecniche una serie di anche momenti dialogici preziosi, importanti e decisamente specifici perché non può essere improvvisata rischierebbe anche di vanificare un pochino tutto quanto di buono abbiamo conquistato durante il percorso e magari renderebbe anche il cambiamento meno duraturo nel tempo cosa che ovviamente non ci auguriamo e non auguriamo al nostro coccino grazie a tutti